ben a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo episodio della top 5 goal purtroppo questa settimana ho avuto qualche problema con l'università perché sono tornato dall'erasmus ragazzi quindi il video esce oggi che è domenica e non sabato come al solito ma andiamo subito a cominciare con sodini vai bacca l'hai messa bene per terra ok 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 bravo bacca mi sei piaciuto me sei piaciuto bacca bacca gervinio oh mio dio ragazzi in quarta posizione troviamo justice ricardi ancora ricardi si è dopato maurito 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 non si è distrazione ultimo gradino del podio per ciccio game buono mamma mia qui è mamma mia mi sembra quadrato ma non sono sicurissimo è quadrato ragazzi che al secondo posto ragazzi un gol che ci avete mandato per messaggio privato di ericchi pz il vincitore di questo episodio ragazzi è ancora lui il sodio cosa ha fatto ibra cosa fa ibra cosa fa ibra vai bra o ibra o è un carro armato è un carro armato è un carro armato non si è fermato mai signori prendiamo il bonus tripletta anche questa settimana ragazzi la top five golf finisce qui mi scuso da subito per la mancanza della musica ma purtroppo ho avuto dei problemi con a movie e non ho potuto implementarla fatemi sapere se magari vi piace anche questa modalità nel senso con la voce dei vari youtuber e magari la musica soltanto sui gol mandati via posta se non l'avete ancora fatto lasciate un like al video ed iscrivetevi al canale mi raccomando continuate a mandarci i vostri gol all'indirizzo di posta elettronica che trovate qui sotto in descrizione ci vediamo il prossimo weekend da libano e da fuori italia channel è tutto